Fa chiarezza il Comune dell'Aquila sulla situazione dei solleciti delle bollette del progetto case da pagare entro agosto additata dalla minoranza come vessazione agli aquilani. A giugno, spiega l'assessore Vito Colonna, sono partiti 4.262 solleciti di bollette già scadute. I solleciti riguardano infatti le utenze del gas e luce, locazione e condominio, o cosiddetta compartecipazione, degli anni afferenti al 2016-2017. Si sta risolvendo con la grande volontà degli aquilani che essendo persone per bene hanno ricevuto questo tipo di sollecito e riguardando la stragrande maggioranza di questi 4.000 inviti a pagare e a saldare cifre davvero irrisorie si sono presentati gli aquilani presso gli uffici del Comune e hanno in gran parte anche già pagato. Parliamo di cifre intorno ai 200, 300, 400 euro quindi può succedere in 12 anni che non arrivi una bolletta, una bolletta sia arrivata sbagliata magari una sia sfuggita, succede a tutti. Quindi non è una criminalizzazione di chi non ha pagato come qualcuno invece avrebbe voluto far passare questa azione da parte dell'amministrazione che è dovuta nei confronti dell'ente. Il problema sono quelle 10-15 situazioni di indebitamento grave parliamo di cifre superiori ai 10-12-13 mila euro e in quel caso noi dobbiamo capire se chi non ha pagato non ha pagato perché non poteva e allora dobbiamo aiutarlo o chi non ha pagato non ha pagato perché non voleva e in quel caso abbiamo il dovere morale per rispetto di tutti e 60.000 gli aquilani che pagano le tasse di andare a riscuotere quel debito che è un debito ingiusto nei confronti della comunità aquilana. L'importo totale di queste bollette ammonta 7 milioni di euro di queste bollette solo 500 superano i 1000 euro di questi 500, 35 sono gli utenti che hanno un debito di oltre 10.000 euro. Essendo una quantità ridotta, parliamo di 15-20 persone andremo ad affrontarle una per una per capire appunto anche nell'intimità della situazione che è particolare e riguarda poi la vita economica delle famiglie chi non abbia voluto pagare e chi non abbia potuto pagare l'invito che facciamo è quello di presentarsi agli uffici del comune per cercare di chiarire la situazione. Siccome qualcuno sfugge invece ancora e fa finta di non ricevere queste bollette allora lì se c'è qualche furbetto è giusto che un'amministrazione come la nostra di centro-destra vada a chiedere spiegazioni.